Buongiorno a tutti, siamo alla vigilia di gara 3 tra Gemini Mestre e Pallacanestro di Nuovi. Presentiamo la partita con Matteo Mattioli, vice allenatore della Pallacanestro di Nuovi, e Mattia Dacampo, ala della Pallacanestro di Bertocchio di Nuovi. Matteo cosa ti aspetti da gara 3? Siamo 2 a 0, come la vedi? Mi aspetto una partita difficile, sicuramente Mestre farà di tutto per provare ad allungare la serie. Noi dobbiamo essere molto bravi, come abbiamo fatto nelle prime due partite, a stare concentrati per i 40 minuti e sicuramente avere un buon impatto fisico. Mattia si giocherà a Tagliercio, un palcoscenico importante dove solitamente gioca la Rea del Venezia, dove Mestre è stata brava a portare più di 2.000 persone nella partita con Livorno, che tipo di ambiente ti aspetti? Beh, sappiamo che clima e i tifosi di Mestre riescono a generare anche i paranzetti, soprattutto a Tagliercio che abbiamo messo contro Livorno, che l'hanno riempito e questo li ha aiutati tanto. Secondo me è venuta la fortuna a noi di vivere una carattura simile a Montecatini, in un ambiente ostico come quello lì, che sarà molto simile a quello che troveremo domani. Quindi viveremo preparati e sappiamo quello che ci aspetta e cercheremo di portare la cassa alla sera. Bene, ragazzi, io vi ringrazio e l'appuntamento è per domani sera alle ore 20 al Tagliercio su LNP Pass per vedere gara 3 tra Gemini Mestre e Pallacanestro Alberto Occhio di noi. Ciao!